E' il 7 del febbre del 2008, siamo a Cagliari, il santo padre del XVI è qui in piazza di Enzo. E' attorno, diciamo dire, il giovane di Cagliari è della presenza di Santamina. Ave, 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 ave a Cagliari, il 7 di settembre del 2008, ha celebrato la messa del superario della Madonna di Bonaria, il professor sagrato, e ora è qui in Piazza Ienne, e questo è il ruolo terminabile, il ruolo che sono presenti, la prefettura parla di 60 mila anni. La nostra famiglia di origine, preparatevi ad amare anche quella che con l'aiuto di Dio voi stessi formerete, dico, preparatevi, perché l'amore vero non si improvvisa, l'amore è fatto oltre che il sentimento di respostabilità, di costanza. E anche il sentimento dell'italia, tutto questo lo si impara attraverso l'esercizio prolungato per i retrogestiani della fiducia, della purezza, dell'abbandono alla providenza e della fiducia. In questo impegno di crescita, adesso un lavoro maturo, di sostanza sempre, la comunità cristiana, perché adesso la famiglia trova la sua più alta dignità. e poi ci radicano secondo la chiama piccola chiesa, perché matrimoni è un sacramento, c'è un segno santo ed efficace di lavoro che Dio ci dona in Cristo attraverso la chiesa. certamente E' l'alto e l'arito di noi che ritengo sottolineare.